Quando Albert Einstein, in uno dei più famosi aforismi della storia, sostenne che Dio non poteva giocare a dadi, di fatto si riferiva a Niels Bohr. Persino Einstein, tuttavia, non potevano riconoscere l'assoluta grandezza del fisico danese. A Bohr si devono infatti alcune delle più importanti intuizioni della fisica di ogni tempo, a partire dalla struttura dell'atomo e terminando con il principio di complementarità, che ha modificato radicalmente il concetto stesso di legge fisica. Uomo notoriamente involuto nei suoi lavori tecnici, Bohr si avventurò in alcune occasioni al di fuori del proprio territorio con interventi di ampio respiro, divulgativi, persino visionari. Si tratta dei testi raccolti in questo prezioso volume, una finestra aperta su uno degli elementi più raffinati di ogni tempo. Nella storia della scienza pochi eventi hanno avuto, nel breve giro di una generazione, conseguenze così straordinarie quanto quelle della scoperta di Planck, del quanto elementare d'azione. Tale scoperta non costituisce soltanto e in misura sempre maggiore la base per l'ordinamento delle nostre esperienze sui fenomeni atomici, la cui conoscenza si è prodigiosamente allargata negli ultimi trent'anni, ma ha prodotto altresì una radicale trasformazione dei fondamenti stessi e della descrizione dei fenomeni naturali. Assistiamo qui ad uno sviluppo in interrotto di punti di vista e di strumenti concettuali che, iniziato con i fondamentali lavori di Planck sulla radiazione del corpo nero, ha raggiunto negli ultimi anni il suo culmine con la formulazione della meccanica quantistica simbolica. Quest'ultima può venire considerata come una generalizzazione naturale della meccanica classica con la quale non teme il confronto sia per bellezza che per interna coerenza. Ma un tale risultato non si è giunti però senza una rinuncia al modo di descrizione spazio-temporale e causale che caratterizza le teorie fisiche classiche, le quali hanno raggiunto attraverso la teoria della relatività una profonda chiarificazione. In questo senso si può dire che la teoria dei quanti ha rappresentato una delusione, ciacché la teoria atomica era sorta proprio con lo scopo di elaborare una descrizione di questo tipo anche per quei fenomeni che alle impressioni immediate dei nostri sensi non appaiono come movimenti di corpi materiali. Fin dall'inizio però non si era impreparati all'eventualità di dover registrare un fallimento in questo campo delle nostre forme di intuizione adattate alle percezioni sensoriali ordinarie. Oggi noi sappiamo che lo scetticismo così sovente espresso nei riguardi della realtà degli atomi era esagerato. Il meraviglioso sviluppo della tecnica sperimentale ci permette infatti di constatare gli effetti dei singoli atomi. Tuttavia è stata proprio la scoperta, simbolizzata dal quanto d'azione, della limitata divisibilità dei processi fisici, a giustificare l'antico dubbio sull'adeguatezza delle nostre orientate forme di intuizione alla descrizione dei fenomeni atomici. Poiché nell'osservazione di questi fenomeni non è possibile trascurare l'interazione tra oggetto e soggetto di misura, il problema relativo alle possibilità di osservazione ritorna in primo piano. Ritroviamo qui, in una nuova luce, il problema dell'oggettività dei fenomeni e ha sempre attirato su di sé tanta attenzione nelle discussioni filosofiche. Stando così le cose non potrà meravigliare il fatto che in tutte le applicazioni razionali della teoria dei quanti si abbia sempre avuto a che fare con problemi essenzialmente statistici. Nelle ricerche originali di Planck fu appunto la necessità di modificare la meccanica statistica classica che portò all'introduzione del quanto d'azione. Questo carattere peculiare della meccanica quantistica si esprime in modo molto significativo nella rinata discussione sulla natura della luce e degli elementi costitutivi della materia. Benché tali problemi avessero ricevuto nel quadro delle teorie classiche una soluzione apparentemente definitiva, noi oggi sappiamo che sia per quanto riguarda la luce che per quanto riguarda le particelle elementari occorrono diverse immagini concettuali per dare un'esoriente interpretazione dei fenomeni e una formulazione univoca alle leggi statistiche che governano i dati dell'osservazione. Quanto più chiaramente emerge l'impossibilità di una formulazione unitaria della teoria dei quanti in termini classici, tanto più siamo portati ad ammirare la felice intuizione di Planck nella scelta del termine quanto d'azione, il quale direttamente allude ad una rinuncia al principio d'azione, la cui posizione centrale nella descrizione classica della natura ha sottolineato egli stesso in più occasioni. In questo principio simbolizza per così dire la peculiare relazione di simmetria reciproca esistente tra la descrizione spazio-temporale e le leggi di conservazione dell'energia e della quantità di moto, la cui grande utilità dipende già nella fisica classica dal fatto che la si può essenzialmente applicare senza dover eseguire il decorso dei fenomeni nello spazio e del tempo. È stata proprio questa reciprocità che ha potuto trovare pregnante espressione nel formalismo della meccanica quantistica. Per esempio, il quanto d'azione vi compare solo in relazione nelle quali le coordinate spazio-temporali e le componenti dell'energia e della quantità di moto, che sono grandezze canonicamente coniugate nel senso di Hamilton, intervengono in modo reciprocamente simmetrico. Anche l'analogia tra ottica e meccanica, rivelatasi così feconda per i più recenti sviluppi della teoria dei quanti, dipende assai strettamente da questa reciprocità. È insito però nella natura stessa dell'osservazione fisica che tutte le esperienze debbano in ultima analisi venire espresse in termini di concetti classici e trascurando il quanto d'azione. È quindi una conseguenza inevitabile della limitata applicabilità dei concetti classici il fatto che i risultati conseguibili nelle misurazioni di grandezze atomiche siano soggetti ad una limitazione intrinseca. Di recente si è potuto ottenere una profonda chiarificazione di tale questione mediante la legge generale della meccanica quantistica formulata da Heisenberg, secondo la quale il prodotto delle incertezze con cui possono venire simultaneamente misurate due grandezze meccaniche canonicamente coniugate non può mai essere minore del quanto d'azione. Heisenberg ha giustamente paragonato l'importanza che questa legge di indeterminazione reciproca ha per la valutazione della coerenza interna della meccanica quantistica con quella che l'impossibilità di trasmettere segnali con velocità superiore a quella della luce ha per la teoria della relatività. Considerando i ben noti paradossi incontrati nell'applicazione della teoria dei quanti alla struttura dell'atomo, è essenziale ricordare a questo riguardo che le proprietà degli atomi si ricavano solo dall'osservazione delle loro reazioni agli urti o alle radiazioni, e che la limitazione della possibilità di misurazione di cui si diceva in precedenza è direttamente connessa con le apparenti contraddizioni che sorgono alla discussione sulla natura della luce e delle particelle materiali. Per sottolineare il fatto che non si tratta di contraddizioni reali, l'autore ha proposto in un suo saggio il termine di complementarietà. Tenuto conto però della predetta simmetria reciproca che compare già nella meccanica classica, il termine di reciprocità è forse più adatto a rappresentare la situazione. Al termine del saggio citato si faceva osservare lo stretto rapporto esistente tra il fallimento delle nostre forme di intuizione, che ha le sue radici nell'impossibilità di separare nettamente il fenomeno dallo strumento di osservazione e i limiti generali della capacità dell'uomo di creare concetti che sono connessi con la nostra distinzione tra soggetto e oggetto. Per la verità, le questioni epistemiologiche e psicologiche che fanno qui la loro comparsa restano probabilmente fuori dal campo della fisica vera e propria. Tuttavia, in questa particolare occasione, vorrei permettermi di entrare un po' più a fondo di quest'ordine di considerazioni. Il problema epistemiologico in discussione può essere caratterizzato brevemente nel modo seguente. La descrizione della nostra attività mentale richiede da una parte un concetto oggettivamente dato, contrapposto ad un soggetto percipente, mentre dall'altro canto, come già implicito in tale asserzione, una netta separazione tra oggetto e soggetto non può essere sostenuta in quanto anche quest'ultimo appartiene al nostro contenuto mentale. Da ciò segue non solo il significato relativo di ogni concetto, meglio, di ogni parola, che viene a dipendere dall'arbitrarietà del punto di vista, ma altresì che noi dobbiamo in generale essere preparati ad accettare il fatto che una spiegazione completa di una stessa questione possa richiedere diversi punti di vista che non ammettono una descrizione unitaria. Infatti, strettamente parlando, l'analisi consapevole di un qualunque concetto si trova in relazione di esclusione con la sua applicazione immediata. La necessità di far ricorso ad un modo complementare o reciproco di descrizione ci è forse più familiare nell'ambito dei problemi psicologici. Ma al contrario, ciò che caratterizza le cosiddette scienze esatte è in generale il tentativo di conseguire l'università evitando ogni riferimento al soggetto percipente. Si può forse riscontrare tale sforzo nella sua forma più consapevole del simbolismo matematico, che ci pone davanti agli occhi un'idea di oggettività dal cui raggiungimento non si frappone quasi alcun limite, finché si rimane all'interno di un campo in sé conchiuso di logica applicata. Nelle scienze naturali vere e proprie non è però possibile parlare di campi di applicazione dei principi logici in sé rigorosamente conchiusi, in quanto si deve essere sempre preparati alla comparsa di nuovi fatti, la cui sistemazione nel quadro delle esperienze precedenti può richiedere una revisione dei nostri concetti fondamentali. Abbiamo recentemente assistito ad una siffatta revisione col sorgere delle teorie delle relatività destinata a mettere in luce, attraverso un'approfondita analisi del problema dell'osservazione, il carattere soggettivo di tutti i concetti della fisica moderna. Nonostante il grande sforzo che tale teoria richiede alle nostre capacità di astrazione, essa si accosta e a con notevolissima misura l'ideale classico di unità e connessione causale della descrizione della natura. Soprattutto ci si attiene ancora rigorosamente alle concezioni della realtà oggettiva dei fenomeni osservati. Come Einstein ha sottolineato, l'ipotesi che ogni osservazione dipenda in ultima analisi dalla coincidenza nello spazio e nel tempo dell'oggetto e del dispositivo di misurazione, e che ogni osservazione sia perciò definibile indipendentemente dal sistema di riferimento dell'osservatore, è infatti fondamentale per l'intera teoria della relatività. Dopo la scoperta del quanto l'azione, sappiamo però che non è possibile raggiungere nella descrizione dei fenomeni atomici tale ideale classico. In particolare ogni tentativo di introdurre un ordinamento spazio-temporale porta a una rottura della catena causale, in quanto a esso è collegato un essenziale scambio di quantità di moto e di energia fra gli enti fisici e i regoli e gli orologi usati per l'osservazione. Ed è proprio di questo scambio che non può essere tenuto conto se gli strumenti di misura devono servire al loro scopo. Viceversa, ogni conclusione sul comportamento dinamico dei singoli enti, dedotta in modo e non ambiguo della rigorosa conservazione dell'energia, della quantità di moto, richiede una completa rinuncia a seguirne il corso nello spazio nel tempo. In generale possiamo dire che la descrizione spazio-temporale causale si presta all'ordinamento delle nostre esperienze usuali, solo in ragione della piccolezza del quanto d'azione rispetto alle azioni da noi incontrate nei fenomeni ordinari. La scoperta di Planck ci ha posti in una situazione analoga a quella in cui ci siamo venuti a trovare dopo la scoperta del fatto che la luce si propaga con velocità finita. L'adeguatezza della netta distinzione tra spazio e tempo, suggerita dai nostri sensi, dipende infatti interamente dalla piccolezza della velocità con cui abbiamo a che fare nella vita di tutti i giorni, in confronto alla velocità della luce. Nella questione della connessione causale dei fenomeni atomici, il carattere reciproco dei risultati delle misurazioni non è più trascurabile in effetti di quanto lo sia la loro relatività nella questione della simultaneità. Considerando la rinuncia impostaci dalla situazione orora discussa a soddisfare le esigenze di quell'intuitività che dà tutto il nostro linguaggio e il suo carattere particolare, è assai istruttivo il fatto che già, in esperienze psicologiche piuttosto semplici, ritroviamo aspetti fondamentali non solo della concezione relativistica, ma anche di quella della reciprocità. Alla relatività della nostra percezione del moto con cui familiarizziamo fin da bambini viaggiando su una nave o in treno, corrispondono esperienze quotidiane sul carattere della reciprocità delle sensazioni tattili. Basterà ricordare qui la sensazione, spesso citata dai psicologi, che ognuno ha sperimentato tentando di orientarsi in una camera oscura per mezzo di un bastone. Se il bastone non è tenuto rigidamente, esso appare al senso del tatto come un oggetto. Se esso è tenuto invece fermamente, si perde la sensazione che si tratti di un corpo estraneo e il tatto si localizza immediatamente dal punto in cui il bastone tocca il corpo ispezionato. Non è forse esagerato sostenere, puramente sulla base di esperienze psicologiche, che i concetti di spazio e di tempo acquistano per la loro stessa natura un significato solo per il fatto che è possibile trascurarne l'interazione con gli strumenti di misurazione. In generale, l'analisi delle nostre impressioni sensoriali rivela una notevole indipendenza dei fondamentali psicologici dei nostri concetti di spazio e di tempo da un lato e di quelli di energia e quantità di moto, fondati sull'azione di forze. Questo campo è però caratterizzato soprattutto, come si è detto, da relazioni di reciprocità che dipendono dal carattere unitario della coscienza e rivelano una singolare analogia con le conseguenze fisiche del quanto d'azione. Pensiamo in questo momento a ben note proprietà, caratteristiche dell'emotività e della volontà, che sfuggono completamente ad una rappresentazione intuitiva. In particolare, l'apparente contrasto tra il continuo fluire del pensiero associativo e il permanere nell'unità della personalità presenta una suggestiva analogia con la relazione tra la descrizione ondulatoria del comportamento delle particelle materiali, dominata dal principio di sovrapposizione e l'indistruttibile individuabilità delle particelle stesse. L'inevitabile influenza esercitata dall'osservazione su fenomeni atomici trova qui il suo corrispondente nel ben noto cambiamento di colorazione dell'esperienza psichica, che accompagna l'atto di dirigere l'attenzione sull'uno o sull'altro dei suoi diversi elementi. Mi sia qui ancora permesso di accennare al rapporto esistente tra le leggi del mondo psichico e il problema della causalità nei fenomeni fisici. Considerando il contrasto tra la sensazione di libera volontà, che domina la vita psichica, e l'apparentemente ininterrotta concatenazione causale dei processi fisiologici concomitanti, non è certo sfuggito ai filosofi il fatto che potremmo essere di fronte ad un rapporto non intuitivo di complementarità. Per esempio è stata di frequente espressa l'opinione che un'indagine particolareggiata dei processi celebrali, che sebbene ineseguibile e non di meno pensabile, potrebbe rivelare una catena causale costituente una rappresentazione unitaria dell'esperienza psichica e emozionale. Tale esperimento ideale appare ora però in una nuova luce, giacché con la scoperta del quanto d'azione abbiamo appreso che un esame causale particolareggiato dei fenomeni atomici è impossibile e che ogni tentativo di acquisire tale conoscenza implica un'interferenza, per principio incontrollabile, con loro andamento. Secondo l'opinione prima ricordata circa le relazioni tra i processi cerebrali e le esperienze psichiche, dobbiamo quindi essere preparati ad accettare il fatto che un tentativo di osservare i primi comporti un'alterazione essenziale nella consapevolezza della volizione. Sebbene in questo caso non si tratti forse che di analogie più o meno felici, è tuttavia difficile liberarsi della convinzione che nei fatti rivelatici dalla teoria dei quanti e che giacciono fuori dal dominio delle nostre ordinarie forme di intuizione, è stato trovato un nuovo mezzo per la soluzione dei problemi filosofici generali. Spero che si scuserà il fatto che un fisico abbia usato avventurarsi su un terreno a lui estraneo. La mia intenzione era soprattutto quella di esprimere l'entusiasmo per le prospettive apertesi a tutta la nostra scienza con la scoperta di Planck. Era mio desiderio anche sottolineare in maniera decisa quanto profondamente le nuove conoscenze abbiano scosso le basi della formazione dei concetti sui quali riposa non solo la rappresentazione classica della fisica, ma anche il nostro abituale modo di pensare. È soprattutto a questa emancipazione che noi dobbiamo il meraviglioso progresso della nostra conoscenza dei fenomeni naturali verificatosi nel corso dell'ultima generazione. Un progresso che oltrepassa di gran lunga tutte le speranze che si potevano concepire fino a pochi anni fa. Forse la più importante caratteristica dell'oderna situazione della fisica è che quasi tutte le idee rivelatisi feconde nell'indagine della natura hanno trovato il loro giusto posto in una comune armonia senza peraltro perdere nulla della loro fecondità. I fenomeni naturali, quali si offrono ai nostri sensi, presentano spesso un'estrema variabilità e instabilità. Per spiegare questo fatto si è avanzata fin dall'antichità l'ipotesi che i fenomeni nascono dall'azione combinata di un gran numero di piccole particelle, i cosiddetti atomi, che sono per parte loro stabili e immutabili ma sfuggono a causa della loro piccolezza dall'osservazione immediata. Lasciando da parte la questione fondamentale se sia giustificato o meno la nostra esigenza di introdurre immagini intuitive in campi che stanno al di fuori del dominio dei nostri sensi, la teoria atomica fu necessariamente in origine una concezione puramente ipotetica. È dato che si riteneva che uno sguardo diretto nel mondo degli atomi sarebbe sempre stato impossibile per la natura stessa delle cose. Si pensava che la teoria atomica avrebbe conservato per sempre questo carattere. Quanto però è accaduto in molti altri campi accadde anche qui. Grazie allo sviluppo delle tecniche di osservazione il limite delle osservazioni possibili si è andato continuamente spostando. Basta pensare alla conoscenza della struttura dell'universo che abbiamo potuto raggiungere con l'aiuto del telescopio e dello spettroscopio o alla conoscenza delle strutture più piccole degli organismi che abbiamo al microscopio. Analogamente lo straordinario sviluppo dei metodi della fisica sperimentale ci ha permesso di conoscere un gran numero di fenomeni che ci forniscono informazioni dirette sul moto e sul numero stesso degli atomi. Noi conosciamo anche fenomeni che possiamo con certezza attribuire all'azione di un singolo atomo o addirittura di una parte di un atomo. Al tempo stesso però, mentre ogni dubbio riguarda la realtà degli atomi è stato rimosso ed è stata raggiunta una conoscenza particolareggiata anche della loro struttura interna, è apparsa evidente in modo assai istruttivo la limitazione naturale delle nostre forme di intuizione. Io cercherò qui di delenare proprio questa particolare situazione. Non posso ora descrivere minutamente lo straordinario ampliamento della nostra esperienza, caratterizzato dalle scoperte dei raggi catolici, dei raggi X e delle sostanze radioattive. Mi limiterò a ricordare gli aspetti principali dell'immagine dell'atomo che ci siamo fatti attraverso queste scoperte. Particelle cariche negativamente, i cosiddetti elettroni, che sono trattenuti nell'atomo dall'attrazione di un nucleo carico positivamente assai più pesante, entrano come elemento costitutivo comune in tutti gli atomi. La massa del nucleo determina il peso atomico dell'elemento, ma ha per il resto solo scassa influenza sulla proprietà della sostanza, indipendenti soprattutto dalla carica elettrica del nucleo, la quale, a parte il segno, è sempre un multiplo intero della carica di un elettrone. Ora, questo numero intero, che determina il numero degli elettroni presenti nell'atomo elettricamente neutro, è risultato essere proprio il numero atomico che assegna il posto all'elemento nel cosiddetto sistema naturale, in cui le particolari relazioni fra gli elementi, per quanto riguarda la loro proprietà fisiche e chimiche, trovano così adeguata espressione. Questa interpretazione del numero atomico, si può dire, costituisca un importante passo verso la soluzione di un problema che ha rappresentato per molto tempo uno dei più arditi sogni della scienza naturale, e cioè la comprensione delle regolarità della natura sulla base della considerazione di puri numeri. Lo sviluppo, cui prima accennavamo, ha in vero provocato un certo mutamento nei concetti fondamentali della teoria atomica. In luogo di supporre che gli atomi siano invariabili, si suppone ora che siano le parti costituenti degli atomi a non cambiare. In particolare, la grande stabilità degli elementi dipende dal fatto che il nucleo atomico non è influenzato dagli ordinari interventi fisici e chimici, di quali producono variazioni solo nel legame degli elettroni entro l'atomo. Mentre tutte le esperienze concorrono a rafforzare l'ipotesi del permanere degli elettroni, noi sappiamo che la stabilità dei nuclei atomici ha un carattere più limitato. Le radiazioni caratteristiche degli elementi radioattivi forniscono infatti testimonianza diretta della disintegrazione dei nuclei atomici, che avviene con espulsione di elettroni e di particelle nucleari cariche positivamente, dotate della più grande energia. Queste disintegrazioni, per quanto è possibile giudicare sulla base dei dati sperimentali, si verificano senza l'intervento di alcuna causa esterna. Se noi abbiamo un dato numero di atomi di radio, possiamo soltanto dire che esiste una certa ben definita probabilità che una certa frazione di essi si disintegri nel prossimo secondo. Ritorneremo più avanti su questo caratteristico fallimento del modo di descrizione causale, che è strettamente collegato con alcuni aspetti fondamentali della nostra descrizione dei fenomeni atomici. Richiamerò qui alla memoria solo l'importante scoperta di Rutherford, che la disintegrazione dei nuclei atomici può, sotto certe condizioni, venire provocata per intervento dell'esterno. Come tutti sappiamo, egli è riuscito a mostrare che i nuclei di certi elementi stabili possono venire spezzati bombardandoli con particelle espulse da nuclei radioattivi. Si può ben dire che questo primo esempio di trasformazione di un elemento prodotto da un uomo segna l'inizio di nuova epoca della storia della scienza naturale e apre un campo nella fisica interamente nuovo, l'esplorazione cioè dall'interno dei nuclei atomici. Non mi soffermerò a parlare più a lungo delle prospettive aperte da questo nuovo campo, ma mi limiterò a discutere le conoscenze acquisite attraverso lo sforzo di spiegare le ordinarie proprietà fisiche e chimiche degli elementi sulla base della predetta concezione della struttura atomica. Potrebbe sembrare a prima vista che la soluzione del problema considerato sia assai semplice. L'immagine dell'atomo di cui ci siamo ora occupando è quella di un piccolo sistema meccanico che rassomiglie per certi aspetti al sistema solare, nella descrizione del quale la meccanica ha veramente trionfato e ci ha dato un esempio fondamentale del modo in cui nella fisica ordinaria è soddisfatta l'esigenza della causalità. Infatti, in base alla conoscenza delle posizioni e dei moti istantanei dei pianeti è possibile calcolare con un'esattezza apparentemente illimitata, le loro posizioni, i loro movimenti, in un qualunque istante successivo. Il fatto però che in una tale descrizione meccanica si debba poter scegliere uno stato iniziale arbitrario presenta grandi difficoltà quando si passa a considerare il problema della struttura atomica. Se infatti abbiamo a che fare con un numero infinito di stati di moto degli atomi variabili con continuità, appare evidente la contraddizione con la conoscenza sperimentale del fatto che gli elementi possiedono proprietà ben definite. Si potrebbe forse credere che le proprietà degli elementi non ci informino direttamente sul comportamento dei singoli atomi, ma che si abbia piuttosto sempre a che fare solo con regolarità statistiche valide per le condizioni medie di un grande numero di atomi. Nella teoria meccanica del calore, che non solo ci permette di spiegare le leggi fondamentali della termodinamica, ma anche di comprendere molte proprietà generali della materia, abbiamo un ben noto esempio della fecondità delle considerazioni meccanico-statiche della teoria atomica. Gli elementi hanno però alte probabilità che permettono di attrarre conclusioni più dirette intorno allo stato di moto dei costituenti dell'atomo. Innanzitutto dobbiamo supporre che la natura della luce, che in determinate circostanze gli elementi emettono e che è caratteristica di ogni elemento, sia essenzialmente determinata da quanto accade in un singolo atomo. Come le onde radio ci parlano della natura delle oscillazioni elettriche che avvengono nei dispositivi delle stazioni trasmettente, così ci aspetteremmo sulla base della teoria elettromagnetica della luce che le frequenze delle singole righe degli spettri caratteristici degli elementi ci forniscano informazioni sui movimenti degli elettroni nell'atomo. La meccanica non ci offre però una base sufficiente per interpretare questa informazione. Infatti, a causa della possibilità di variare con continuità gli stati meccanici di moto di cui si è detto sopra, non è nemmeno possibile capire l'esistenza di righe spettrali ben nette. L'elemento mancante alla nostra descrizione della natura, evidentemente necessario per interpretazione dei comportamenti degli atomi, è stato fornito dalla scoperta di Planck del cosiddetto quanto d'azione. Tale scoperta ha avuto origine dallo studio di radiazione del corpo nero che, per la sua indipendenza dalla proprietà particolare delle sostanze, offriva un mezzo decisivo per stabilire l'ampiezza del campo di validità della teoria meccanica nel calore e della teoria elettromagnetica della radiazione. Proprio l'incapacità di queste teorie a rendere conto della legge della radiazione del corpo nero portò Planck a scoprire un aspetto generale delle leggi naturali che era passato inosservato fino ad allora. Questo aspetto, per la verità, non è affatto evidente nella descrizione dei fenomeni fisici ordinari, ma esso ha addirittura causato una rivoluzione totale nella nostra descrizione di quegli effetti che dipendono dai singoli atomi. In contrasto col requisito di continuità che caratterizza l'usuale descrizione della natura, l'invisibilità del quanto d'azione introduce un elemento essenziale di discontinuità nella descrizione dei fenomeni atomici. La difficoltà di inserire la nuova conoscenza nello schema ordinario delle nostre idee fisiche si manifestò particolarmente nella discussione sulla natura della luce rinnovata da Einstein in connessione con la sua spiegazione dell'effetto fotoelettrico, benché la questione, a giudicare da tutti i precedenti risultati sperimentali, avesse trovato una soluzione del tutto soddisfacente nel quadro della teoria elettromagnetica. La situazione in cui ci veniamo qui a trovare è caratterizzata dal fatto che si è apparentemente costretti a scegliere tra due concezioni della propagazione della luce reciprocamente contraddittorie. L'idea delle onde luminose è la concezione corpuscolare della teoria dei quanti di luce, ciascuna delle quali esprime aspetti fondamentali dell'esperienza. Come vedremo in seguito, questa apparente dilemma caratterizza una limitazione peculiare delle nostre forme di intuizione, connessa col quanto d'azione. Questa limitazione risulta dall'analisi approfondita dell'applicabilità dei concetti fisici fondamentali alla descrizione dei fenomeni atomici. Infatti solo attraverso una consapevole rinuncia alle nostre usuali esigenze di intuitività e di connessione casuale è stato possibile utilizzare la scoperta di Planck per la spiegazione delle proprietà degli elementi sulla base della nostra conoscenza intorno alle particelle costituenti gli atomi. Partendo dall'ipotesi dell'indivisibilità del quanto d'azione, l'autore suggerì che ogni variazione dello stato di un atomo dovesse venire considerata come un processo individuale non suscettibile di una descrizione più particolareggiata, in cui l'atomo trapassa da uno stato cosiddetto stazionario ad un altro. Secondo questa concezione, gli spetti degli elementi non forniscono informazioni dirette sui moti delle particelle atomiche, ma ogni riga spettrale viene associata ad un processo di transizione tra due stati stazionari, dove il prodotto della frequenza per il quanto d'azione dalla variazione di energia dell'atomo nel processo. Risultò così possibile ottenere per questa via una semplice interpretazione delle leggi spettroscopiche generali che Balmer, Rheinberg e Ritz avevano ricavato dai dati sperimentali. Questa concezione dall'origine degli spettri fu direttamente confermata anche dai noti esperimenti di Frank e Hertz sugli urti fra atomi ed elettroni liberi. Si trovò che il valore dell'energia che può venire scambiata in tali urti coincide esattamente con la differenza di energia calcolate a partire dagli spettri tra lo stato stazionario di cui si trova l'atomo prima dell'urto e uno degli stati stazionari in cui esso può trovarsi dopo l'urto. In generale, questo punto di vista offre la possibilità di ordinare in modo coerente i dati sperimentali, ma questa coerenza si raggiunge solo rinunciando ad ogni tentativo di ottenere una descrizione particolareggiata dei singoli processi di transizione. Siamo qui così lontani ormai da una descrizione causale. Perché a un atomo o uno stato stazionario dobbiamo attribuire in generale la possibilità di una libera scelta tra diverse possibili transizioni ad altri stati stazionari. Per la natura stessa delle cose, noi possiamo soltanto impiegare considerazioni probabilistiche per predire il verificarsi dei singoli processi. La qualcosa presenta, come ebbe a sottolineare Einstein, una profonda analogia con le condizioni valide per le trasformazioni radioattive spontanee. Un carattere peculiare di questa impostazione nel problema della struttura atomica è costituito dall'ampio uso fatto di numeri interi, che hanno una parte essenziale anche nelle leggi empiriche degli spettri. Così la classificazione degli stati stazionari, oltre a dipendere dal numero atomico, dipende anche dai cosiddetti numeri quantici, alla cui sistematica tanto ha contribuito Sommerfield. In generale, i punti di vista considerati hanno permesso di interpretare entro ampi limiti di proprietà e le relazioni degli elementi sulla base della nostra concezione generale della struttura atomica. Considerando il profondo distacco dalle nostre abituali rappresentazioni fisiche, qualcuno potrebbe meravigliarsi del fatto che una tale interpretazione sia stata possibile, in quanto l'intera conoscenza che noi abbiamo degli elementi costitutivi degli atomi riposa in ultima analisi su queste rappresentazioni. Infatti ogni uso di concetti come quello di massa o di carica elettrica equivale ovviamente a un richiamo alle leggi della meccanica o dell'elettrodinamica. Un metodo per rivedere utilizzabile questi concetti in campi diversi da quelli in cui hanno validità le teorie classiche, che però è stato trovato, imponendo una condizione di concordanza della descrizione quantistica o con quella classica, in quei casi limiti nei quali si possa trascurare il quanto d'azione. Lo sforzo di utilizzare nella teoria dei quanti ogni concetto classico, reinterpretandolo in modo da soddisfare questa condizione, senza entrare in contraddizione col postulato di indivisibilità del quanto d'azione, ha trovato la sua espressione nel cosiddetto principio di corrispondenza. Ci furono però molte difficoltà da superare prima di poter portare a termine una descrizione completa, fondata sul principio di corrispondenza, e solo negli ultimi anni è stato possibile formulare una meccanica quantistica coerente, che può essere considerata come una generalizzazione naturale della meccanica classica, e in cui la descrizione continua, causale e sostituita da un modo di descrizione sostanzialmente statico. Un passo decisivo verso questo risultato fu compiuto dal giovane fisico tedesco Berner Heisenberg, il quale ha mostrato come le idee ordinarie di moto possano venire coerentemente sostituite da un'applicazione formale delle leggi classiche del moto. Siccome il quanto d'azione compare solo in certe regole di calcolo valide per i simboli che sostituiscono le grandezze meccaniche, questo ingegnoso modo di affrontare il problema della teoria, dei quanti, richiede però un grande sforzo al nostro potere di astrazione. È la scoperta di nuovi artifici che, nonostante il loro carattere formale, soddisfano meglio la nostra esigenza di intuitività e ha perciò avuto una profonda influenza sullo sviluppo e la chiarificazione della meccanica quantistica. Penso qui all'idea delle onde materiali introdotte da Louis de Broglie, che si sono rivelate così feconde nelle mani di Schrödinger, in particolar modo in rapporto alla concezione degli stati stazionari, i cui numeri quantici sono stati interpretati come numero di nodi delle onde stazionari rappresentati gli stati stessi. De Broglie aveva preso le mosse dell'analogia, già così importante per lo sviluppo della meccanica classica, esistente tra le leggi che governano le propagazioni delle luce e quelle che valgono per il movimento dei corpi materiali. La meccanica ondulatoria costituisce infatti la controparte naturale della summenzionata teoria di Einstein dei quanti di luce. Come in questa teoria, anche nella meccanica ondulatoria non si ha a che fare con uno schema concettuale in sé conchiuso, ma piuttosto come è stato sottolineato in special modo da Bohr, con uno strumento per la formulazione delle leggi statistiche che governano i fenomeni atomici. È vero che la conferma dell'idea delle onde materiali ottenute dagli esperimenti fatti sulla riflessione degli elettroni sui cristalli è a modo suo altrettanto decisiva quanto i risultati sperimentali che suffragano la concezione ondulatoria della propagazione della luce. Dobbiamo però tenere presente che l'applicazione delle onde materiali è limitata a quei fenomeni nella cui descrizione è essenziale tener conto del quanto d'azione e che giacciono pertanto fuori dal campo in cui è possibile istruire una descrizione causale corrispondente alle nostre usuali forme di intuizione, dove si può attribuire a un'espressione come natura della materia e natura della luce un significato nel senso ordinario. Mediante la meccanica quantistica è possibile dominare un vasto campo dell'esperienza. In particolare possiamo spiegare un gran numero di questioni particolari riguardo alle proprietà fisiche e chimiche degli elementi. Di recente è stato possibile ottenere anche un'interpretazione delle trasformazioni radioattive, in cui le leggi probabilistiche e impidiche valide per questi processi figurano come conseguenze immediate del particolare modo di descrizione statistico, che caratterizza la teoria dei quanti. Questa interpretazione fornisce un eccellente esempio sia della fecondità che della natura formale delle concezioni ondulatorie. Da una parte abbiamo qui una connessione diretta con le abituali idee di moto, in quanto grazie alla grandezza d'energia dei frammenti espulsi dai nuclei atomici, dei traiettori di questi particelli risultano direttamente osservabili. Dall'altra le concezioni meccaniche ordinarie non riescono assolutamente a darci una descrizione del decorso del processo di disintegrazione, in quanto il campo di forza che circonda il nucleo atomico dovrebbe, secondo queste idee, impedire alle particelli di sfuggire dal nucleo stesso. Secondo la meccanica quantistica, la situazione è diversa in quanto il campo di forza costituisce sia un ostacolo che trattiene per la maggior parte le onde materiali, sia permettere tuttavia una piccola frazione di esse di fuoriuscire. Quella parte di onde che esce in un certo intervallo di tempo dà una misura della probabilità che in quell'intervallo si verifichi la disintegrazione del nucleo atomico. Non c'è forse altro esempio in cui la difficoltà di parlare della natura e della materia senza la predetta riserva possa trovare un risalto maggiore. Nel caso dei quanti di luce, esiste un'analoga relazione tra le nostre immagini concettuali e il calcolo della probabilità che si verifichino effetti luminosi osservabili. In accordo con le concezioni elettromagnetiche classiche non è però possibile attribuire alla luce una vera e propria natura materiale, dato che l'osservazione dei fenomeni luminosi dipende sempre dalla concezione di energia e quantità di moto a particelle materiali. Il contenuto tangibile dell'idea dei quanti di luce si limita piuttosto all'interpretazione della conservazione dell'energia e della quantità di moto che essa ci rende possibile. È in sostanza una delle caratteristiche principali della meccanica quantistica il fatto che malgrado la limitazione delle concezioni meccaniche ed elettromagnetiche classiche risulta impossibile preservare le leggi di conservazione dell'energia e della quantità di moto. Queste leggi costituiscono per certi aspetti l'esatta controparte dell'ipotesi, fondamentale per la teoria atomica, della permanenza della particella materiale che nonostante la rinuncia all'idea classica del moto è rigorosamente mantenuta nella teoria dei quanti. Come la meccanica classica anche la meccanica quantistica pretende ridare una descrizione esauriente di tutti i fenomeni che rientrano nel suo ambito. Per i fenomeni atomici non è possibile evitare l'uso di un modo di descrizione essenzialmente statistico. Ciò consegue dall'esame approfondito delle informazioni conseguibili mediante misurazioni dirette di questi fenomeni e del significato attribuibile in questo contesto all'applicazione dei concetti fisici fondamentali. Da una parte dobbiamo considerare che il significato di questi concetti è strettamente legato alle idee fisiche abituali. Così, per esempio, qualunque riferimento a relazioni spazio-temporali presuppone la permanenza delle particelle elementari, proprio come le leggi di conservazione dell'energia e della quantità di moto formano la base di ogni applicazione del concetto di energia e di quantità di moto. D'altra parte, il postulato dell'indivisibilità del quanto d'azione rappresenta un elemento del tutto estraneo alle concezioni classiche, il quale comporta per ogni misurazione non solo un'interazione finita tra oggetto e strumento, ma anche una certa indeterminazione del calcolo di questa interazione. In conseguenza di questo stato di cose, ogni misurazione mirante a determinare l'ordinamento spazio-temporale delle particelle elementari richiede da parte nostra una rinuncia alla conoscenza rigorosa dello scambio d'energia e di quantità di moto tra le particelle, i regoli e gli orologi utilizzati come sistemi di riferimento. Analogamente, ogni determinazione dell'energia e della quantità di moto delle particelle richiede da parte nostra la rinuncia ad una loro esatta coordinazione dello spazio nel tempo. In entrambi i casi, il richiamo a concetti classici reso, necessario della natura stessa della misurazione, equivale a rinunciare ad una descrizione rigorosamente causale. Queste considerazioni portano immediatamente alla relazione di indeterminazione reciproca istituita da Heisenberg e da lui poste a base di un'approfondita indagine della coerenza logica della meccanica quantistica. Questa indeterminazione essenziale può essere considerata, come l'autore ha dimostrato, l'espressione diretta di una limitazione assoluta nell'applicabilità di concetti intuitivi alla descrizione dei fenomeni atomici, limitazione che si manifesta nell'apparente dilemma della natura, della luce e della materia. La rinuncia all'intuitività e alla connessione causale, cui siamo costretti nella descrizione dei fenomeni atomici, può ben essere considerato come il fallimento delle speranze che avevamo costituito al punto delle concezioni atomiche. Dal punto di vista attuale della teoria atomica, tuttavia, dobbiamo considerare questa rinuncia come un essenziale progresso della nostra conoscenza. Non si tratta infatti di un fallimento dei principi generali della scienza della natura all'interno di un campo in cui ci si attenda con ragione di poterli applicare. La scoperta del quanto d'azione in effetti non solo rende manifesta la limitazione naturale della fisica classica, ma gettando nuova luce sul vecchio problema filosofico dell'esistenza oggettiva dei fenomeni indipendentemente dalle nostre osservazioni, pone la scienza in una situazione affatto nuova. Come abbiamo visto, ogni osservazione comporta un'interferenza sul decorso del fenomeno, di natura tale da toglierci ogni base per la descrizione causale. Il limite alla possibilità di parlare dei fenomeni come oggettivamente esistenti, impostici dalla stessa natura, trova la sua espressione per quanto ci è possibile giudicare proprio dalla formulazione della meccanica quantistica. Questo non deve però venire considerato come un ostacolo a ulteriori progressi. Dobbiamo solo essere preparati alla necessità di un sempre maggiore allontanamento dalle nostre abituali esigenze di una descrizione immediatamente intuitiva della natura. Dobbiamo attenderci nuove sorprese, soprattutto nel campo in cui la teoria dei quanti si incontra con la teoria della relatività, dove difficoltà insolute frappongono ancora ostacoli a un completo accordo tra le nostre conoscenze sperimentali e i mezzi interpretativi fornitici da queste teorie. Sono lieto di poter qui sottolineare il grande significato avuto dalle teorie di Einstein nella relatività del recente sviluppo della fisica, ai fini dell'emancipazione da esigenze di intuitività. Dalla teoria della relatività abbiamo imparato che l'adeguatezza della netta separazione di spazio e tempo, richiesta dai nostri sensi, dipenda unicamente dal fatto che le velocità in cui abbiamo di solito a che fare sono piccole in confronto alla velocità della luce. Analogamente possiamo dire che la scoperta di Planck ci ha portato a riconoscere che l'adeguatezza di tutto il nostro abituale atteggiamento, caratterizzato dall'esigenza di una connessione causale, dipende unicamente dalle piccolezze del quanto d'azione in confronto alle azioni con cui abbiamo a che fare nei fenomeni ordinari. Mentre la teoria della relatività ci ripropone il carattere soggettivo di tutti i fenomeni fisici, un carattere che dipende in modo essenziale dallo stato di moto dell'osservatore, il rapporto dei fenomeni atomici con la loro osservazione messo in luce dalla teoria dei quanti, ci costringe ad usare dei nostri mezzi espressivi con una cautela analoga a quella necessaria dei problemi psicologici, dove ci si imbatte di continuo nella difficoltà della definizione dei contenuti oggettivi. Sperando che non mi si fraintenda attribuendomi l'intenzione di introdurre qui un misticismo incompatibile con lo spirito della scienza naturale, mi è forse concesso di richiamare il parallelismo esistente tra la rinata discussione sulla validità del principio di causa ed effetto e l'antichissima e tuttora perdurante discussione intorno alle libertà del volere. Come la libertà del volere è una categoria che scaturisce dall'esperienza della nostra vita psichica, la causalità può venire considerata una forma di intuizione mediante la quale vengono ordinate le nostre percezioni sensoriali. Ma al tempo stesso però abbiamo a che fare in entrambi i casi con ideazioni i cui limiti naturali vanno ulteriormente sottoposti a indagine e che si condizionano reciprocamente, nel senso che l'esperienza dell'abolizione e l'esigenza della causalità sono ugualmente indispensabili nel rapporto tra soggetto e oggetto, che costituisce il nucleo centrale del problema della conoscenza. Al prossimo capitolo Se apprezzi i contenuti di questo canale e vuoi contribuire a tenerlo attivo puoi farlo tramite una donazione. I riferimenti li trovi nella scheda informativa o in descrizione sotto questo video. Tante piccole gocce faranno il mare su cui potrà continuare a navigare questo beliero, oh zattera, in alto i cuori. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.